Buongiorno a tutti, mi chiamo Giancarlo Bettio, sono il titolare del Salomificio Mario Brugnolo, azienda storica che ha sede in Vigonza a Padova, un'azienda che compie 70 anni il prossimo gennaio. Sono orgoglioso di presentare questa azienda perché sto portando avanti una seconda generazione. Siamo radicati nella zona, nel territorio, con prodotti tipici, stiamo puntando all'estero e ci stiamo dando da fare in maniera importante. Da pochi mesi ho preso la carica di presidente della Pallavolo Padova, ho molto orgoglio. Io sono entrato in Pallavolo nel 2012 alla Pallavolo Padova con un piccolo contributo, spinto da mia figlia perché giocava a Pallavolo e così ho conosciuto l'ambiente. Dopodiché l'anno successivo, nel 2013-2014, dall'A2, siamo passati all'A1 ed è stato un coronamento e anche un giorno più bello. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia. Potete vedere qua c'è la maglia di Mattia Rosso che me l'ha regalata e che è stata per me una grandissima soddisfazione. Siamo partiti carichi per affrontare quello che era il percorso dell'A1. Siamo cresciuti, dal primo anno in poi abbiamo fatto esperienza, abbiamo rinforzato la squadra man mano e ci siamo portati a obiettivi, quali quelli di raggiungere i play-off e di giocare le nostre finali con degnità e con orgoglio, facendo bella figura e soprattutto incrementando quello che è il pubblico al palazzetto. Prima del Covid naturalmente abbiamo sempre avuto uno giocolo duro di persone che seguono la Pallavolo con molto entusiasmo e anche con molto divertimento. Ogni maglia ha un ricordo, ha una storia di una partita vinta, di alcune azioni bellissime, di alcuni giocatori. Io sono uno che si affeziona molto alle persone e mi resteranno nel cuore anche se non giocano più come la Pallavolo Pallola, però vedo che mi scrivono, mi salutano, mi chiedono sempre informazioni e per me questo è un orgoglio. Io sono entrato nella Brugnolo nel 1980, fra l'altro mia moglie era la mia fidanzata al tempo. Sono partito dal basso, allora c'era suo padre alla guida dell'azienda e siamo stati insieme in un grandissimo periodo. Finché nel 2005 è venuto a mancare, a quel punto io e mia moglie abbiamo preso in mano l'azienda, l'abbiamo comprata e abbiamo dato continuità a quello che lui aveva iniziato. Dopodiché nel 2011 abbiamo acquisito un altro stabilimento sito in Porto Viro e abbiamo incorporato un nuovo socio nella compagine sociale e sì che lo stabilimento di Porto Viro produce tutte le specialità tipiche venete ed è portato avanti dal signor Filippo Maragon. Ci siamo proposti a catene di distribuzione, a mercati esteri e abbiamo dato sviluppo a un'industria la quale produce 2700 prosciutti cotti al giorno e sviluppa quasi 60 tonnellate di salame stagionato alla settimana. La mia giornata tipo comincia presto perché alle 7 si è in negozio, si organizza la produzione, poi si sentono i clienti, si vedono gli ordini. È una giornata ormai che non ha un orario, non ha uno schema, vive un po' a quello che è il fabbisogno giornaliero. Io sono sempre stato uno sportivo fin dalla nascita, gli sport mi piacciono tutto, soprattutto quelli motoristi, poi avendo delle figlie ho dovuto adattarmi anche ad altri tipi di sport che però ho seguito volentieri. Diciamo che quando uno è uno sportivo vivere la gara ti appassiona, ti fa creare delle emozioni e affronti la partita come se fossi tu in campo, in realtà tu non sei in campo, sei all'esterno, però la vivi con quella grinta, con quella voglia che è quella che poi ci sono le gioie, ci sono i dolori e quando si vivono le sconfitte o le partite giocate male le vivi della stessa maniera, però fa parte dello sport. Io mi animo, sono uno che proprio ci sta male, magari dopo mi passa. Devo dire che la Polavolo Padova già quando sono entrato era organizzata molto bene, negli anni successivi ha incrementato ancora questa organizzazione, che è quella di mettere a contatto tutti i soci e sponsor in maniera importante e si è creato delle amicizie, delle persone che non conoscevo sono diventate dei miei primi amici, ma perché soprattutto si sono condivise degli affari, delle idee e queste hanno creato business su business, ma non è una questione di soldi, si è creato che se ho un problema portandolo in Polavolo Padova, alcune volte è stato risolto, perché ti viene indicata la persona giusta da poter scambiare due parole, da poter condividere questo problema e eventualmente risolverlo. Questa è stata una cosa che devo dire ho apprezzato tantissimo, tant'è vero che con alcuni soci, con alcuni sponsor siamo diventati come dei fratelli e questo è molto bello. Siamo arrivati in fondo, questa è la breve sintesi della Brugnolo e della mia storia molto sintetizzata sulla Polavolo Padova e direi di passare la parola a un altro socio importante che è Padana Edile, diretta da Gianni Burgo. Arrivederci!